Kate Middleton e Pippa su tutte le fure con Meghan, la fidanzata del principe Harry. Le ha provocate. La querelle sulla camicia bianca. . Come riportano la di Blitz e il sito britannico Celebrity Laundry, l'attrice di Hollywood avrebbe lanciato una vera e propria frecciatina alle sorelle Middleton. E tema del contendere sarebbe proprio il matrimonio con Harry. . Pare infatti che l'interprete di Suiz abbia contattato per l'abito da sposa lo stesso designer scelto da Pippa, ovvero Gilles Deacon. . Insomma, un vero e proprio sacrilegio. . Ecco cosa riporta Celebrity Laundry, anche se il principe Harry deve ancora fare la proposta Meghan Markle, sembra che lei stia già organizzando il matrimonio. Dopotutto, sarà l'evento più importante dell'anno e l'elenco degli ospiti sarà il più esclusivo di Londra. . Meghan sa bene che ogni dettaglio conta. . 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